Coci è arrivata l'importante vittoria domenica scorsa contro Pozzallo, una vittoria fondamentale anche per appunto staccare definitivamente la stessa Pozzallo insomma dalle prime posizioni. Sì, Pozzallo la verità era già staccata perché perdendo le ultime due partite aveva perso un attimino il passo per rientrare nella zona playoff. È stato importante vincere, stacchiamo sicuramente i cinque fronti che effettivamente sta facendo un buon finale di campionato. Cinque fronti che riposerà nel prossimo turno quando la Cona della Mezza affronterà Partanna è l'occasione per scavare un ulteriore solco sulla seconda in classifica. Sì, infatti era quello che volevo dire. Loro riposeranno domenica e quindi con la partita che abbiamo noi in casa cercheremo di portarci con un margine maggiore rispetto al cinque fronti. Niente, alla fine poi facendo un pochettino un resoconto del campionato, i valori sono stati quelli. Cinque fronti ha dimostrato di non mollare, ha dimostrato che poteva vincere anche fuori casa perché poi alla fine chi ha vinto qualche partita in più fuori casa è arrivata nella zona playoff. Dalla gara di sabato che cosa si aspetta? Solitamente questa squadra ha mostrato dei leggeri cali di concentrazione quando ha affrontato squadre sulla carta decisamente più apportabili. Questa volta non lo si dovrà fare anche in vista di quello che sarà l'impegno della prossima settimana? No, non lo dobbiamo fare assolutamente, sia per i punti perché i punti poi bisogna prima conquistarli, prima di averli e poi soprattutto per arrivare alla Coppa Italia con una consapevolezza e una sicurezza maggiore perché le partite che affronteremo lì nella final forza saranno partite importanti quindi dove dobbiamo tenere la concentrazione alta. Quindi anche domenica dove magari è più difficile tenere la concentrazione alta voglio proprio che si impegnino di più da questo punto di vista. Intanto finalmente si sta svuotando un po' l'infermeria che in questo periodo è stata davvero sovraffollata. Sì, abbiamo avuto un periodo un pochettino con piccoli problemi, fortunatamente abbiamo recuperato tutti quanti, adesso che dobbiamo affrontare le final forza. Devo ringraziare Gin perché Gin ci ha dato una grossa mano proprio in un momento un pochettino di difficoltà quindi ancora di più sono contento della permanenza di Gin qui alla Mezzia. Adesso siamo tutti a completo, oggi già abbiamo fatto un buon lavoro e domani e dopo domani faremo ancora di più perché lavoreremo proprio su alcune fasi di gioco dove ancora alcuni meccanismi devono essere fatti meglio. Alfieri, Serpong, Garofalo, tutte e tre comunicabili arruolabili per la partita di sabato? Sì, tutti quanti, tutti quanti arruolabili, certamente non è domenica che devono dimostrare, abbiamo ancora altri due o tre giorni per farli recuperare ancora meglio, quindi l'idea è quella di arrivare alla final forza nel miglior modo possibile.